Salve a tutti, vuoi che vario, sono SuperGiomaster e oggi bentornati su Ultimate Custom Night Nel scorso episodio ho condannato la Pay Attention 1 e oggi ho deciso di mostrarvi la Pay Attention 2 Prima di iniziare vi avverto che ho scritto i vari showtime, i vari orari in cui devo andare a controllare Funtime Foxy Sì potrebbe essere un po' barare ma è la cosa giusta da fare Ho già provato questa notte ed è molto 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 difficile E ragazzi vi dico subitissimo che penso che in questo video penso di stare un po' zitto perché davvero Il mio consiglio è quello di che se giocate a questo gioco giocate in silenzio Perché vi concentrate molto meglio Allora, showtime di Funtime Foxy è a Luna, quindi alle 0.45 la devo controllare Guarda te Dai Dai che c'è un Nightmare Balloon Boy io Perfetto Dai, nessun problema Non arrivo a 1 Eh, lo sapevo che ti stavi svegliando Brutto bambino Showtime alle 3 Porca miseria il music box Allora, showtime alle 3 quando è? Alle 2.15 Ok Ah, è una cosa molto bella il fatto che se c'è JJ al posto di Balloon Boy JJ ti fa usare appunto la torcia Almeno, cazzo Però te è veramente rotto, eh Set Ventilation Dai Ciao a tutti Porca miseria Che bordello Che è sta roba Dove cazzo è? Raga non trovo il fungai Dov'è? Eh raga paura di perdere Cioè eh però dai Con il fungai lì cazzo Mamma mia quanto rompono Ecco era il music man Ci doveva per forza stare il music man Cioè dai Tutto sto bordello che E vai Avete visto? Avete visto quanto è difficile? Avete visto quanto è difficile? Devo ricordarmi di un sacco di cose Devo riuscire a ricordare bene Giustamente i giusti comandi È davvero difficile Questa è davvero difficile Ma io non mi arrendo Io ce la devo fare Ce la devo fare ragazzi Allora alle 2 ok 1.30 Tu vattene Il gameplay è veramente molto incasinato Ok tu vattene via Si Fanta in cica Un'altra volta ok Sono mega concentrato raga Vabbè guarda te È sto qua che mi chiama Sto ri Sto pretino Sto attraggio 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 Ok le 3.43 No 3.45 Mamma mia raga È difficile stanotte È molto complicata Mamma mia raga Sto soffrendo davvero tanto Ok le 5 arriva Le 5 sono 3.45 Ok Dai 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 che devo mandare via Malumboi Nightmare Malumboi La corretiera La corretiera Che bordello. Madonna, sto soffrendo come un maiale. Oh ragazzi, corso. Non devo fare errori, non devo fare errori. Madonna, raga, raga, io vi giuro, ho il cuore che sta andando a mille. Dai cazzo, arrivano le sei, tanto fa dei fox, arriva le otto che manco c'è. Sì, sì. Duemila punte, mamma mia, oddio il mio cuore. Sto malissimo, sto malissimo. Oddio santo, ragazzi. No, allora, non sto facendo la scena, allora vi giuro, è una cosa, è bellissimo, è bellissimo, ho completato la Paytension 2. Avete visto, ma voi l'avete visto, quanto cavolo di cose c'erano? Devo stare attento a Balloon Boy JJ, al Puppet, a Fante Foxy, Nightmare Balloon Boy, Old Man Consequences, Elby, Music Band, nel Cip, Fante Chica, Afton e il Fungai. Ma ragazzi, alla fine ho completato Paytension 2. Io, raga, sono davvero contentissimo. Ho completato già 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 challenge. E ragazzi, non ne mancherebbero altre, però, penso che in questo video vi mostro solamente la Paytension 2. Però, voglio dire una cosa molto importante. La mia let's play di Ultimate Custom Night sarà in questo modo. Affronterò tutte le challenge e poi proverò, appunto, se riesco a mostrarvi, appunto, le varie scenette anime, e mettendo varie animatronics a vari altri punteggi, proveremo a fare anche la, questa, tipo anche la 5020, eccetera, eccetera. Ragazzi, io concludo qua questo episodio di Ultimate Custom Night. Scusate se forse è durato poco, ma, raga, io direi di concludere qua, perché veramente la Paytension 2 è stata davvero, davvero tremenda. Vi giuro che ancora è il cuore che batte. Raga, guarda, facciamo una cosa. Concludiamo in un modo bello, ragazzi. Mi faccio fare il jumpscare da chi. Boh, vi faccio fare il jumpscare da lui, va. Anzi, no, facciamo da Music Man. Perché sì, dai. Music Man non è mai arrivato. Vediamo un po' com'è. Ragazzi, adesso, per attivare, per far attivare Music Man, devo fare un bordello di rumore. Devo fare un casino di rumore, raga, per attivare Music Man. Sì, ehi, Music Man, dai, vieni. Guarda te, guarda te. Sì, vabbè, voglio concludere in questo modo, va. Ecco, lo sentite? Lo sentite? Music Man sta sbattendo i piatti. Music Man sarebbe dietro, dietro di noi. Dietro la guardia. Dai, oggi arriva. Oh, yeah. Va bene, ragazzi. Io direi di concludere qua questo quarto episodio di Ultimate Custom Night. Ho completato la Pay Attention 2. È davvero stato molto complicato. Forse non troppo. Però, ragazzi, nella prossima notte potrebbe essere un po' complicata. Il problema è che dovremmo affrontare le belle animatronic. Quindi, ragazzi, questo è tutto per questo video. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale per non perdere altri episodi di Ultimate Custom Night. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Va davvero un po' di limonata.